Nascere dalla parte sbagliata del mare ti insegna da subito cosa conta davvero nella vita, quali sono i valori, il significato autentico della parola fortuna. Claudio Andoia è nato in Albania e a 12 anni con un barcone è arrivato da clandestino in Italia. La sua storia da giocatore grazie al basket la conoscono in tanti, ma quella dell'uomo che è si è fatta tutta in quel braccio di mare fra la sponda albanese e quella italiana. Una storia difficile di paura, sofferenza, fame, di riscatto anche. Una storia dura e fortemente vera, racchiusa nelle pagine di questo libro La morte è certa, la vita no. Fatevi e fate un regalo. Il ricavato del libro va in beneficenza a quei bambini che ancora oggi stanno dalla parte sbagliata del mare. Sono una persona che sta trasmettendo sicuramente un messaggio, sono un ragazzo come tanti altri che ha passato tante difficoltà e vuole aiutare qualcuno magari in un momento di difficoltà. Spero che il messaggio che sto trasmettendo, tutto quello che sto facendo, possa servire a qualcuno. L'obiettivo è quello, ovviamente tutto il ricavato che avrò io del libro andrà in beneficenza a un orfanotrofi a Scutari, perciò veramente tutto questo è fatto per aiutare qualcuno. Ecco, ho avuto la fortuna di farcela, non è facile, però veramente voglio trasmettere questo messaggio di speranza e di dire alle persone di non mollare mai nei momenti di difficoltà perché tutto è raggiungibile, tutto è possibile. Ho fatto lo sbaglio che hai detto tu, che una volta magari hai raggiunto il mio più grande desiderio. Mi sono un po', non dico seduto, però volevo godermi quello che avevo conquistato. Invece è lo sbaglio più grande che una persona può fare. Non bisogna veramente accontentarsi mai perché si può raggiungere molto di più. si pensa che quando si raggiunge una cosa sia la fine, invece no, quello è veramente l'inizio. Non bisogna sedersi e accontentarsi, bisogna andare avanti, lavorare, 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 perché tutto quello delle persone più grandi che abbiamo oggi nel mondo non sono né più intelligenti né più furbi di noi o sono più dotati di qualcosa che noi non abbiamo. Tutti abbiamo le stesse potenzialità, solo quelli che raggiungono il top del top sono quelli che lavorano di più, non ci sono scorciatoi. Penso di essere felice, sì, penso di essere felice. Quello che sto facendo mi rende sicuramente felice, mi renderebbe veramente felice che qualcuno ne traesse beneficio di questa cosa. Leggendo questo libro qualcuno dicesse, cavolo è proprio così, non devo abbattermi dei problemi, non devo mollare, devo solo andare avanti e continuare poi questa strada.